però guarda, tienila così, perché se la tieni così ti escono le bande laterali invece questo ti prende tutto lo schermo dunque non l'accentere che non ti ha accesa e guarda, tienila così, perché se la tieni così ti prende tutto lo schermo e guarda, tienila così, perché se la tieni così ti prende tutto lo schermo e guarda, tienila così, perché se la tieni così ti prende tutto lo schermo e guarda, tienila così, perché se la tieni così ti prende tutto lo schermo grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.